La squadra nel compresso sta bene, Santoro è l'unico disponibile della giornata, sta riprendendo, speriamo di averlo, lo avremo sicuramente per la prossima partita, quindi sta recuperando, abbiamo preferito non rischiarlo in questo momento perché aveva un leggero risentimento, quindi gli altri stanno tutti bene, abbiamo lavorato molto bene in questa settimana. Una squadra deve per forza metterci in campo prima l'agonismo, prima la determinazione, prima la concentrazione e poi il resto delle qualità, quindi mi aspetto che la mia squadra abbia imparato un po' di lezioni durante queste nove partite e quindi questa è una di quelle, quelle che comunque deve partire forte, deve partire con la mentalità giusta, deve partire con la cattiveria giusta e poi naturalmente far emergere quelle che sono le qualità tecniche che indubbiamente questa squadra ha. Abbiamo lavorato su quelli che sono prima di tutto i nostri principi di gioco, poi dopo è normale che andiamo a giocare a Matera, una squadra che è in salute perché viene da due risultati utili consecutivi, ha pareggiato col Casarano in casa, poi ha rimontato una partita importante a Martina, quindi è in fiducia, è una squadra in fiducia, ha cambiato la guida tecnica, quindi ci sono tante cose nuove. Niente, ci aspettiamo una partita difficile come dico sempre tutte in questo campionato, quindi mi aspetto un approccio importante, mi aspetto che comunque i ragazzi siano dentro la partita dal primo al novantesimo e facciano quello che abbiamo provato perché poi se fanno quello che abbiamo provato sono sicuro che le cose andranno molto bene.